Non è importante sapere. Max è per metà cinese. All'aspetto può passare per un uomo bruno di razza caucasica perché ha gli occhi grandi anche se è un poco a mandorla e le sopracciglia ben disegnate. È molto più bello lui come uomo di quanto non sia io come donna, disse mia figlia. Io sono piccola e bionda con gli occhi verdi. Non ho mai saputo se credermi carina o no. Max non mi ha mai detto che ero bella. Hai una pelle squisita, hai una bocca così dolce. Max ha sempre detto così ma senza mai parlare di bellezza. Il padre di Max è inglese e vive a Pechino ma sua moglie è cinese e perciò Max è per metà cinese. Ma sono importanti tutte queste precisazioni, dissi. La piccola bocca di mia figlia si schiuse in un'espressione sorpresa. Perché papà non lo sono? No, perché non è importante sapere a quale razza umana appartiene Max. E non è importante nemmeno sapere se lui è innamorato di te. È importante che tu ti sia innamorata di lui.